Wewe ragazzi bentornati! Oggi vedremo lo schioppo! Arma d'assalto ad avancarica, un fucile a più canne, sorprendentemente preciso, che spara raffecchie potenti. I suoi danni elevati e il suo caricatore capiente compensano la sua cadenza di tiro ridotta e il suo rinculo. Lo schioppo è un'arma famosissima ormai ed è disponibile nel negozio di salva al mondo al costo di 1680 di oro. L'ultima sua perk, ovvero la perk che lo contraddistingue, colpire 5 volte di fila lo stesso bersaglio causa una piccola esplosione che infligge danni ai nemici in un raggio di 0,5 unità del bersaglio per il 70% dei danni. In questo caso io di quest'arma ne ho sempre volute due, una in fisico e una d'energia. Allora, lo schioppo è un'arma con un caricatore da ben 32 colpi, ogni scarica sarà da 8 colpi e come dice l'ultima perk, appunto quando andremo a colpire un bersaglio con 5 o più colpi, comunque effettueremo quella piccola esplosione. Lo schioppo è un'arma molto versatile, possiamo utilizzarla da una distanza meglio ravvicinata ma anche da una media lunga distanza ed è preferibile comunque utilizzarla contro zombie con tanta vita, quali occhi belli, taker, smasher eccetera eccetera. Utilizzare lo schioppo contro nemici in massa risulterà poco conveniente in quanto comunque tra una scarica e l'altra abbiamo il tempo di attesa, l'arma in sé comunque non è possibile indirizzare diciamo la scarica da 8 colpi su più zombie, in sostanza se stanno tutti molto vicini in quel caso ancora ancora, ma ovviamente questo non potremo permettercelo sempre. Un'ottima arma per appunto zombie con tanta vita come dicevamo, la possibilità comunque di alternare il doppio schioppo è molto molto favorevole, in quel caso comunque andrete a eliminare quel tempo di attesa tra una scarica e l'altra ed è un'arma che secondo me tutti i giocatori dovrebbero sicuramente avere. Parliamo un attimo del percaggio dell'arma, allora abbiamo percato lo schioppo con un livello critico, velocità di ricarica, elemento in questo caso io ne tengo uno fisico e finalmente direi uno d'energia, e poi doppio danno critico alla fine, in questo caso avete uno schioppo diciamo utilizzabile con qualsiasi build, ovviamente con mazza assalto urbano riuscirete a stimolare molto di più il suo potenziale, ma questo percaggio diciamo che è uno schioppo naturale utilizzabile con tutte le build, se volete invece uno schioppo molto più forte, beh sapete meglio di me che gli basta togliere un livello critico e aggiungere danni critici, però in questo caso dovrete utilizzare lo schioppo solamente o con il vantaggio squadra del totalmente rock oppure con rio primo colpo, però ad ogni scarica dovrete sempre ricaricare l'arma. Quindi cosa stai aspettando? Corri anche tu a prendere lo schioppo dal negozio di Fortnite salva il mondo, te lo stanno praticamente tirando dietro, per 1680 di oro avete la possibilità appunto di comprare quest'arma che ormai è talmente leggendaria e talmente unica nel suo genere che probabilmente non ne vedremo più di simili, senza contare che poi magari dovrete aspettare o il lama compleanno o mal che vada ancora un altro anno. E se siete dei giocatori con un inventario non particolarmente ampio, quindi non una vasta scelta di armi, e state procedendo nella vostra storia, lo schioppo sappiate che è un'ottima arma anche per il re della tempesta mitico, ovviamente non la migliore. Mi ricordo quando uscì la prima volta il re mitico che ci fu anche il rework dei lanciarazzi e diciamo anche delle munizioni celle energetiche, praticamente avevano messo il costo con le batterie, nessuno di noi aveva batterie, quindi utilizzare il deatomizzatore risultava praticamente impossibile per chiunque, ripeto non eravamo abituati a tenere batterie nel nostro zaino no? Quindi esaurite diciamo quelle poche che avevamo, non potevamo più sparare col deatomizzatore. Ecco perché nel mio primo video che pubblicai io stavo utilizzando lo schioppo, anzi per la precisione il doppio schioppo. Era sicuramente molto molto utile alternarlo per killare i miniboss epici, ma soprattutto anche per i cristalli, e ovviamente con la fluttuazione di links andavo a boostare anche i danni. Però diciamo la ragione primaria era anche il risparmio per quanto riguarda le batterie, perché raga ovviamente con lo schioppo utilizzerete le munizioni leggere e quindi non sprecherete batterie eccetera eccetera. Se vi state chiedendo che build ho utilizzato per questo video, ho semplicemente messo mazza assalto urbano come primario, il vantaggio squadra di totalmente rock, quindi vado sempre a occupare due slot con gli orai musicali, poi aumento i danni dei fucili d'assalto, metto pronto e carico, e poi in genere scegliete voi survivalista, corazza, piuttosto che altre perk per la R eccetera eccetera. Insomma raga come ci tengo a ribadire ogni volta le build sono molto molto personali. E soprattutto comunque lo schioppo diciamoci la verità non è un'arma che necessita particolarmente di build, è una di quelle armi che appunto utilizzerete tranquillamente con qualsiasi build voi entrerete, ciò significa che magari state entrando in una missione da fare FK con il costruttore e magari c'è quello smasher girovagante che gira all'intorno. Beh che arma utilizzare per killarlo molto velocemente senza dover andare per forza a sprecare munizioni, celle energetiche piuttosto che craftare armi mitiche. Se abbiamo uno schioppo nell'inventario sicuramente è un'ottima scelta. Poi comunque utilizzarla in missione è molto molto comodo e molto vantaggioso perché comunque riuscirete a uccidere sia gli occhi belli, sia gli smasher, i taker che volano. L'unica cosa che sarà difficile fare con appunto esso è uccidere tanti zombie piccoletti tutti insieme, magari i truccioletti quelli piccoli e veloci, diciamo che quando sono in molti, beh dovrete optare per qualcos'altro. Ma è un'arma che comunque sul multi target lascia molto a desiderare e non lasciatevi ingannare da queste parole perché comunque vi basta tenere nell'inventario magari un'altra arma che effettua un danno ad aria e comunque sparare una scarica intera di colpi di schioppo magari addosso ad un piccoletto vi risulterà molto molto sprecato. Insomma è un'arma fatta apposta per i bersagli grossi. Sprecare quella raffica ad otto colpi su un piccoletto che magari ipoteticamente gliene bastano due o tre di colpi, beh vi risulterà molto molto sprecato. Io ragazzi spero di essere stato abbastanza chiaro, se non fosse stato abbastanza chiaro andate subito a comprarvi l'arma anche perché poi ve lo ripeto bisognerà aspettare un sacco per poterla riottenere e non è neanche detto che comunque nei lama compleanno di luglio abbiate il 100% di possibilità di trovarlo o meglio ancora non si sanno neanche le armi che è possibile trovare in quei lama quindi raga come sempre fate il possibile per poterlo comprare adesso. Io vi ringrazio di aver guardato fino a qui il video ci tengo molto a sapere la vostra opinione qua sotto con un commento vi ricordo di attivare la campanella e iscrivervi al canale perché presto ci saranno delle belle novità. Io per oggi non vi spoilerò altro per oggi è tutto, noi ci vediamo col prossimo episodio Bella Bella! Ciao!